Credo ci siano dei mangi invisibili dietro di me. Vabbè. Ehi, voi due. Stavamo parlando di quello che può essere successo a Martino. Sembra un fumatore. Non mi stavi parlando. Io mica ti ascoltavo. Vero che stia bene. Non possiamo parlare d'altro. Non è che Martino abbia fatto chissà cosa di interessante. Ebbè, certo. Le magiche avventure di Martino. Oh no! Morirò! Devo salvarmi la vita! Oh, bene. Rieccoci qua. Oh no! Cos'era quell'attacco incredibile? Cos'è? Ho conquadrato facciamo... Oh no! L'attacco di Sonic. Madonna mia! Comunque, Martino muore se fin... Martino muore in qualsiasi circostanza. È un livello scartato di Crash Bandicoot questo. Dio mio! Ebbè... Ehi, ehi, ehi! Cosa fai? Questi doppi salti da solo. Dio mio! Aiuto! È la Madonna! Alp! Devo lanciargli in bocca ai funghi. Sei Mortino che in questo momento ti sto proprio... Ti sto proprio odiando, ma proprio malamente. Fai solo rumori! Porca troia, non parla neanche più Mortino. Fa solo rumori! E stiamo... Facendo arritrare un cacchio di coccodrillo... Lanciandogli in bocca dei funghecchi. Aiuto! Con Mortino che continua a gridare... Aiuto! Cosa ci sarà in questo buco? Assolutamente nulla. E ora... Passiamo. Dio mio! Spero che crepi il prima possibile, Mortino. Spero sinceramente che tu muoia, ma proprio male, brutto. Oddio. Ah, devo farmi un passaggio in mezzo al miele? Aspetta che... Già che ci siamo, scusami a sto punto... Già che ci siamo a sto punto, prendiamole le monete, no? Mortino. Già che stai facendo l'inutile per tutto il gioco, come ha detto... Ma a parte che... Dio mio! È un gremlin! Guardalo! Mortino il gremlin! Vi ammazzo tutti! Dio mio! Una fusione brutta fra... Fra Gollum e un gremlin! Aspetta! Che non riesco a posizionarmi. Ok, penso fosse tutto lì. Va bene, guarda. Perché fai i rumori di Michael Jackson? Ok, e questa l'abbiamo presa. Allora, con calma. No? Si è già sminchiata la visuale. Oh, cazzo! Mortino! No! Mortino! No! No! Eh, dai! Sta visuale del cazzo! Ecco fatto! Il cimitero degli elefanti, siamo finiti! Aspetta! Ah, non posso... Ok, no! Non posso saltare su questi tronchi, va bene! Eh, però, è mortino! Mortino! Santo cielo! Dove è finito? Sonic! Io ti odio! Io ti odio con tutto il mio cuore, mortino! Credimi! Cosa fai, cosa fai, cosa fai, cosa corri? Ginchia! Lo spin-off MadadascarSonic.exe è questo, altro che... Allora, aspetta. Vediamo. No! Oh, sì! Sono riuscito a prenderlo. Era quello che speravo, in realtà. Ma stai buono! Aiuto! Oh, la telecamera, il gioco è tutto terribile! Anche Mortino lo è! Non è che gli elefanti mi fanno... No, eh? Mi fanno qualche scherzone. Con calma, mo... Allora, gli elefanti magari no! Ma i coccodrilli comunque sì! Ma quanto sono grosse, ste rane! Va bene che siamo in Madadascar! Ehi, anzi, neanche, siamo in Africa adesso! Va bene tutto, ma... Quanto sono grosse, ste rane! Che cazzo! Oddio mio! Ok. Credetemi che c'ho più ansia qua... Che a giocare tutti gli altri livelli, perché i comandi sono... No! Sono terribili, come stavo dicendo! Vabbè, dai, non siamo riapparsi tanto lontani. Sono terribili, perché... Lo spazio del salto non è... Preciso. Pure il pinball. Guarda. Penso che mi divertirò più così che con tutto il resto del gioco. Ah, solo... O tutti e due o niente? Benissimo. Dobbiamo prendere i due fiorellini. Scusatemi, non... Dobbiamo prendere i peperoncini. Ma io volevo prendere la moneta. Ma come fai a essere preciso se li metti tutti e due insieme e non uno alla volta? Queste erano le magiche avventure di Mortino. Ma perché? No. Ma come fai a essere salto? Ma come fai a essere salto? Ma come fai a essere salto?